stiamo soli così, le guardate e in che tu andavi? in un'altra parte perchè era Gito Pichè e tu stai qui in Santiago in questa condizione e noi andiamo a dormire siamo a 5 minuti siamo a 5 minuti che lo stai facendo? eh? siamo a 5 minuti siamo a 5 minuti che lo stai facendo? tu stai facendo? mi stava andando a Montiago mi stava andando a Montiago come fuori? mi stava andando a Montiago a che ora dopo che passava sul mare? mi stava fumando a Montiago fumando a Montiago fumando a Montiago? tu stava andando? tu stava andando? mi stava andando? mio stava andando mi stava andando? e tu stava andando? io stava andando? non stava andando i stava andando? e questo è il suo compagno? mi stava andando? sono in il hospital è il nostro sessore è il nostro sessore è il nome? questo è il nome dell'Ivole e il nostro chasse wirlo e allora io non stiamo andando a me maravano e questo si fai andando? e cosa dicevano a che vieno? che stai cazare? una nuova Non lo so che poi. Io non ho capito. Tu subi al l'hospitalo? No, io le ho detto a mia madre. Io le ho detto che mia mia maturava. E' la mia madre. De dove vienes tu? De dove tu vive? Sanchito Pichetto. Sanchito Pichetto. Tu vive allà in Sanchito? Ok, tu mi dici a mi come che ii volentieri per arrivare. No, io stavo parando. Come i vanno a fare 20. Come il nome tuo? Esu. Esu che? Esu? Esu Luna. Roja? Esu Luna. Tu sei a tu doveva a casa ora? 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 Grazie.